Noi vogliamo contribuire a rafforzare i corridoi umanitari, questo è un tema importante per i rifugiati richiedenti asilo, per le persone in difficoltà e per le famiglie, infatti qui il messaggio forte è l'accoglienza delle famiglie siriane. Sottoscritto questa mattina a Palazzo San Giacomo un protocollo d'intesa fra enti e associazioni che punta a rafforzare le reti umanitarie per la tutela e l'accoglienza dei rifugiati, secondo le indicazioni della Convenzione di Ginevra e del diritto internazionale. Sono persone che in questo momento un futuro non ce l'hanno, che hanno vissuto anni e anni di guerra, oltre sette anni di guerra, che verosimilmente sono spostate molte volte in questi anni da uno posto all'altro perché il fronte della guerra è cambiato e che in questo momento non hanno possibilità di andare in nessun altro luogo sicuro che gli possa permettere di godere di quei diritti minimi che tutti noi abbiamo bisogno, diritto la salute, l'educazione, appunto un futuro per i propri figli. La nostra esperienza parte dal territorio di Scampia, un territorio che è in grado di raccontare e testimoniare come la presa in carico di fragilità umane, sociali, come quelle da cui provengono queste famiglie in lotta per la sopravvivenza in questi territori di guerra, possa dare un contributo allo sviluppo dei territori, all'emancipazione personale attraverso l'incontro con l'altro e quindi la possibilità di costruire visioni in cui le comunità diventano accoglienti, in cui c'è spazio per il talento e per la storia di ognuno, a partire dalla quale contribuire al miglioramento personale e collettivo di interi pezzi di città. Firmatari, oltre al Comune di Napoli, sono l'Ospedale e la Fondazione Santo Bono Pausilipon, l'Ospedale e la Fondazione Evangelica Betania, la Comunità di Sant'Egidio, la Chiesa Valdese del Vomero, la Chiesa Metodista di Napoli, la Onlus GVC di Bologna, l'Associazione Chi Rom e Chi No di Scampia, le Università Federico II e Orientale. Da una parte c'è chi raccoglie firme per fermare l'invasione, dall'altro c'è il senso di colpa di tante altre persone che dicono riusciamo a fare poco rispetto a quella che è una tragedia e quindi è su questo che si dovrebbe innestare un nuovo modo di intendere le nostre città e le nostre comunità. Sicuramente Napoli è distante tutto il mar Mediterraneo che separa Napoli da quei territori nel pensare che nel nostro paese abbiamo un problema di invasione o un problema di inquinamento della razza bianca, come in modo veramente miserevole da un punto di vista politico umano, dice qualcuno che addirittura si candida a guidare un'importante regione nel nostro paese. Lavoriamo a fianco delle comunità proprio per garantire questi diritti, per garantire che chi non ha altra soluzione, non ha altra possibilità che fuggire, andare via, possa trovare in modo dignitoso e sicuro per raggiungere comunque un approdo che gli dia qualche possibilità pur minima rispetto a quella che lascia di un futuro proprio migliore per i propri e per i propri figli. È la relazione l'unica chiave per sconfiggere lo stereotipo, è la costruzione di quotidiani veramente accoglienti in cui ci sia spazio per ognuno, è la costruzione di visioni in cui è la persona che gioca la differenza rispetto alla parola migrante, alla parola marginalità, alla parola discriminazione, alla parola periferia. Siamo tutti in gioco, ognuno con la sua quota di responsabilità per costruire quotidiani migliori in cui ci sia spazio per la vita di ciascuno di noi.